Ciao a tutti, sono Federico e io per Spora Home. Oggi siamo arrivati in questo appartamento bellissimo. Il vicino è Esquilino e è nel centro reale della città. Stiamo praticamente dietro la stazione Termini. Puoi trovare la stoppa di Vittorio Morale della linea metro in meno di due minuti per il foot. Puoi trovare strade come Via Gavur e Via del Cuevia Nazionale in meno di 10 minuti per il foot. Qui è molto vicino a Rione Monti, che è uno dei migliori vicini per la vita in Roma. Qui c'è una linea di fronte all'interno. Puoi trovare tutto per il livello. Qualcuno di shop, banche, post-office, banche, supermercate. Come ho detto prima, ci sono tre abattamenti. La casa è sul primo luogo. Come potete vedere, siamo in la sala del livello. Qui c'è un luogo. Qui c'è una porta a livello. Qui c'è la porta all'interno. Qui c'è qualcosa che si può rincare. Qui c'è un luogo, un luogo qui è almeno. Qui c'è un luogo. Qui c'è il luogo. Qui c'è la una parte del livello. Qui c'è la中ca. Qui c'è un luogo. Qui c'è la città. Qui c'è la cucina. Qui c'è la cucina. la finestra del bambino, il bambino che si chiama il bambino e ci sono i miei pezzi di fiori, il lavato di un'arbre di lanterna ci sono i 4 cucchi, ci sono i clock, and you have this fridge, some storage here you have some space for dishes right there and you have this here, apartment some more space down there, some dishes right there we can move to the corridor, you have some clip lines as you can see under the table you have some stuff, a tv, some lights this errand board, the door goes to the other house, it's communicant but with the clothes this is the bedroom number 2 every single room has its own private fridge you have the common one in the kitchen and in every room you have your private fridge you have these two tables small tables as well and you have the bedroom number 2 and the super bedroom number 2 and you can find here the toilet these shelves this radiator here there is this sink a shower a mirror here and we can move to the bedroom it has a very big and bright room and you have one and two chairs three chairs actually and four with the desk there is more table here this radiator, a light, a tv with a mirror behind it and you have this wardrobe here and over here a fridge this piece of furniture with two compartments and a window that goes to the street and you have this big wardrobe plenty of space and we can move to the bedroom number 3 and we can move to the bedroom number 3 and a kitchen utensils a bedroom then you have the street bathroom number 3 with the toilet this radiator sorry the sink this is the toilet and the beden and you have a shower here a small table right there and we can move to this very big bright room you have two twin beds one two and three wardrobes the same of the other room so with some shelves here this one has a mirror on it and a big compartment here there is a lot of space you have this just two drawers as well five drawers the high room right there this library one and two desks this mirror here and a light with a window goes to the street and you have this radiator here and let's see it guys okay so for this house more or less is everything don't hesitate to contact us from spot at home for further information take care of you ciao go there go you